Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video Oggi vado a fare un video touching A me rilassa tantissimo Quindi poiché ne vedo pochi in giro di questo genere Ho deciso di farlo io, di proporlo io E mentre io toccherò il tuo viso Parlerò un po' così senza tema Io quando vedo questi video In cui si accarezza, mi sento accarezzata Quindi è quello che vorrei trasmettere proprio a te Sentirti accarezzata Rilassata Tranquilla Non pensare a nulla I pensieri si scombrano La mente si scombra I pensieri vanno via Resti solo tu E' un grande senso di calma I brutti pensieri Dobbiamo cercare di scacciarli Quindi Concentrati solo sulla mia mano Che ti accarezza Che ti accarezza Ti accarezza il viso Non pensare a nulla E se proprio non riesci A non pensare a nulla Allora Cerca di Pensare a qualcosa di bello E oppure Penso a qualcosa da fare Io per esempio Quando mi sento molto giù Ma tanto, tanto giù Cerco di fare Di sforzarmi Di fare qualcosa Qualunque cosa Qualcosa che Mi porti poi Un attimo di Di felicità Sembra una stupidata Però A me piace fare Le crostate Con la pasta frorla E quindi Mentre poi Impasto No, no Non penso più a nulla E quando poi Inforno la crostata Non vedo l'ora Di mangiarla E quindi Mi sento Un attimo Scompra da pensieri Io Vorrei dare a te Questo stesso consiglio Cerca di Cerca di Lassarti E di non pensare a nulla La vita Non ha bisogno Di essere complicata E purtroppo Ci sono cose Che Non è facile Risolvere Perché magari Certe volte Se cerchiamo Di salvare Noi stessi Nello stesso tempo C'è qualcuno Che Al contrario Si farà del male Io credo che Le persone Sensibili Siano Siano Talmente Piene Di scrupoli Che Non Non riescono A tollerare Di aver fatto Del male A qualcuno E Spesso Comunque È un errore Perché Non si può Sacrificare La propria vita Per qualcun altro Perché purtroppo Se Noi Non pensiamo A noi stessi Nessuno Ci salverà Solo noi Siamo in grado Di salvarci Però Non è facile Perché Per salvare Te stesso A volte Devi far soffrire Qualcun altro E non Non lo possiamo Soffrire Stollerare Questa Sensazione Soprattutto Se Quella Persona Non capisce Il malessere E Pretende Sempre di più E fa Sempre di più Sentire In colpa Razionalmente Sai Che Stai Male Razionalmente Sai Che È Sbagliato Sentirsi in colpa Razionalmente Sai Che bisogna Pensare a se stessi Però Non Non è facile Trovare una soluzione Non è facile Uscire Non è facile E io lo so Che non è facile Diventa quasi Una prigione Mentale Una di quelle Catene Mentali Che si fa Fatica A rompere Non ce le mette Nessuno Se non Noi stessi Anche se Implicitamente Quella catena Mentale Dalla messa Qualcuno A furia di Farci sentire In colpa A furia di Piccole Strategie Psicologiche E quindi Ti senti Scoppiare Ti senti Male Non sa Che fare Vorresti Ma non puoi Provi A fare Qualcosa Ma non Riesci E quando Ti sembra Che Ti sembra Di essere Arrivato Dall'ultimo Gradino C'è Qualcuno Che ti fa Uno scampetto E ti fa Cadere Fino A terra Siamo Siamo Così Siamo Essere Umani Ma Pian piano Ce la faremo Ad affrontare Tutto La soluzione Si deve Trovare Una Soluzione Che Ci riesca A far Vivere In equilibrio E se Non c'è Soluzione Dobbiamo Cercare Di Metabolizzare Quella Situazione E Iniziare A vivere E A vedere Le cose In maniera Diversa Perché La vita È breve E Non vale La pena Rovinarcela Per qualcosa Che ci fa Soffrire O che ci Turba Dobbiamo Andare Oltre Andare Oltre Le situazioni Oltre La nostra Quotidianità Iniziando A scoprire I piccoli Dettagli Che non Vediamo E Cercando Di Stupirci Per qualcosa Di nuovo A volte Quando Non si riesce A trovare Una soluzione Per cambiare Qualcosa Allora Bisogna Lasciarla Da parte E Iniziare Un nuovo Percorso Magari È proprio Quel nuovo Percorso Che troverà La soluzione Al vostro Problema In qualche Modo Magari Chissà Chissà Però Chiudersi È la cosa Peggiore Non bisogna Chiudersi In se stessi E Rimucinare Sempre Perché poi Quando ci Chiudiamo Siccome Esiste L'empatia Trasmettiamo Agli altri Questo Stato Di Negatività E purtroppo Poi La gente Allontana Le persone Negative E Noi stessi Tentiamo Ad isolarci Perché Non abbiamo Voglia Di ridere Di sorridere Di far finta Di nulla E quindi Ci priviamo Della vita Stessa Quindi No Non chiudersi Mai in se stessi Andare Oltre Cercare Di fare Qualcosa Una nuova Attività Perché Magari Quella nuova Attività Ti distrae E magari Ti inizia A far vedere La vita La tua vita In Da un altro Punto di vista Magari Da un altro Punto di vista Ti rendi conto Che Alla fine Non Il problema Non era Poi così grave O comunque Proprio Quel problema Ti ha dato Lo spunto Per Iniziare A vivere E Ma Mai Chiudersi Sforzarsi All'inizio La voglia Non c'è Di fare Qualcosa Però Basta Poco Perché Lo so Che non è Facile Risolvere Certi Problemi Perché Siamo Tutto Legati Mentalmente Abbiamo Paura Di Cambiare Abbiamo Soprattutto Paura Di Far Soffrire Qualcun Altro Oppure Abbiamo Paura Di Essere Riviutati Chissà Ci sono Tanti Motivi Tante Circostanze Chi Apprezzò Un Amore Chi Apprezzò Una Una Persona Cara Chi Apprezzò Un Amico O Al contrario Chi Sta Soffocando Da un Amore Ormai Finito E Non Riesce Ad Uscirne Per Paura O Per La Consapevolezza Di Farsi Soffrire L'altra Persona Oppure Chi Deve Dire No A Un Familiare Non sa come Dirlo Ci sono Tante Situazioni Che però Portano Allo Stesso Stato D'animo E Cioè Un Malessere Psicologico Che poi Si riscuote Si ripercuote Sul Fisico E Quindi Poi Sul Relazionarsi Con gli Altri Con Se Stessi Quindi Mai Chiudersi Mai Lascersi Abbattere Mai Stare A casa Mai Isolarsi Iniziare Qualcosa Di Nuovo Iniziare Anche Una Camminata Veloce E Anche Se Fa Freddo Mettersi Il Capote Il Piumone E Fare Una Camminata Iniziare A fare Magari Delle Fotografie Qualse Qualunque Cosa Non per Forza Qualcosa Di Costoso Di Spendioso La Passione Per La Cucina Una Nuova Attività Una Nuova Lettura Una Nuova Qualunque Cosa Ma L'importante È Non Crociolarsi Su Quel Problema Perché Altrimenti Ci Si Ammala Ok C'è Quel Problema Un Attimino Accantonarlo E Riniziare A Prendere La Propria Vita Riniziare A Vivere E Allora Poi Finalmente Riprendere A Respirare Riprendere A I Propri Ritmi Accantonare Quella Sofferenza Per Capire Cosa Bisogna Fare E Poi Finalmente Saprai Cosa Davvero Vuole Il tuo Cuore Ecco E Quindi Io Spero Di Avervi Dato Un po' Di Rilassamento E Se Questo Genere Di Video Vi Vi E Piaciuto Fatemelo Sapere Io Vi Saluto Ciao Ciao